Io so che il ministro Calderoli è al lavoro, un lavoro molto impegnativo perché da quello che ho percepito, leggendo i giornali, non ha trovato moltissimo nei propri cassetti. So che Calderoli però non solo ha a cuore la vicenda perché è una bandiera della Lega oramai da parecchi anni, ma perché ci sono numerosi governatori che vanno in quella direzione, che fanno questo tipo di richiesta. D'altronde ricordiamolo l'autonomia all'interno della proposta elettorale che l'intero centrodestra ha presentato agli italiani. Abbiamo vinto le elezioni anche grazie a questo punto, evidentemente dunque ancora una volta cerchiamo di passare dalle parole ai fatti.